Tre giorni di lavori sul ponte Rosello a partire da domani. Da mercoledì a venerdì di questa settimana, salvo con tre tempi, è previsto un intervento di messa in sicurezza della struttura. L'operazione intende eliminare parti di intonaco nella zona sottostante il ponte di Rosello su via Col di Lana. La ditta Edilma di Osilo si occuperà di eseguire i lavori, ovvero la rimozione manuale delle parti di intonaco che si stanno staccando dalla struttura. Nello stesso momento l'impresa tratterà con prodotti specifici le armature. L'intervento non prevede chiusure al traffico. La circolazione via Col di Lana sarà coordinata con un moviere della ditta esecutrice. Il 24 settembre il ponte era stato oggetto di una chiusura momentanea dopo la segnalazione di un passante che in seguito al transito di un camion aveva notato la struttura oscillare pericolosamente. L'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale avevano accertato la non sussistenza di pericoli imminenti. D'altra parte la sicurezza del ponte è costantemente monitorata attraverso una serie di analisi ordinate dal comune. L'ultima ad agosto non ha fatto emergere nessuna problematica particolare.